Consagrazione al cuore immacolato della Beata Vergine Maria di Fatima O Santa Vergine, Madre di Gesù e Madre Nostra, che sei apparsa a Fatima ai tre passorelli per regare al mondo un messaggio di pace e salvezza, io mi impegno ad accogliere questo tuo messaggio. Mi consagro oggi al tuo cuore immacolato per appartenere così più perfettamente a Gesù. Aiutami a vivere fedelmente la mia consagrazione, con una vita tutta spesa nell'amore di Dio e dei fratelli, sull'esempio della tua vita. In particolare ti offro le preghiere, le azioni, i sacrifici della giornata, in riparazione dei peccati miei e degli altri, con l'impegno di compiere il mio dovere quotidiano secondo la volontà del Signore. Ti prometto di recitare ogni giorno il Santo Rosario, contemplando i misteri della vita di Gesù. Intrecciati ai misteri della tua vita. Voglio vivere sempre da vero figlio tuo e cooperare perché tutti ti riconoscano e amino come Madre di Gesù, vero Dio e unico nostro Salvatore. Così sia. Così. 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 Così.